Grazie Presidente, questa mozione è frutto di una stretta collaborazione con la maggioranza del municipio undicesimo che ha pensato di regalare alla cittadinanza e ai mercati di Roma Capitale una settimana dedicata ai mercati denominata appunto, con un gioco di parole, animiamo i mercati. Noi amiamo i mercati, per questo vogliamo rilanciarli, l'abbiamo ribadito con moltissimi atti di Assemblea Capitolina lo stiamo facendo nella Commissione, lo sta facendo l'assessorato allo sviluppo economico lo stanno facendo i municipi che hanno a cuore questa problematica. In questa mozione noi chiediamo che venga istituita una settimana appunto di eventi culturali, sociali, didattici, dimostrativi e anche di tradizionali dentro i mercati per promuoverne l'aspetto sociale e commerciale. Per fare questo evento noi contiamo sulla collaborazione degli AGS e degli operatori per promuoverli e pubblicizzarli. Quindi questo vuole essere l'inizio di una pubblicità produttiva per le attività produttive e per i servizi nei mercati per avvicinare la cittadinanza a questo importante servizio che è una parte importante della nostra vita. Per questo chiedo a tutti i consiglieri di rifletterne sulla votazione e di votare favorevolmente. Grazie.